www.feyyaz.tv un contesto la ragione è che Obama non parla di Europa è il presidente di Brescia per indicare agli europei questa è l'amministrazione Obama gli americani hanno tentato il fallito di sessuale agli europei di tagliare l'ospedale pubblico e non tagliare la data e l'amministrazione Obama è il fallito di avere giravano un po' in qua non si sta, si sta si sta, si sta si sta mao mao si dice all politics is local ai votanti americani dell'Europa gli importa molto poco gli importa l'economia la loro vita si possono pagare il mutuo all politics is local e lo fa lei sicuramente come lo fa chiunque fa la televisione e fa un approfondimento perché come vi fa un programma sulla politica estera e questo non solo in America cromano via voti questo in tutti i paesi quindi questa è la vera ragione la vera ragione e poi non compiamo compiamo molto poco la vera ragione la vera ragione la vera ragione la vera ragione ehi ehi no no si la va su la va su si ma infatti l'ho ripresa ehi senti giù senti giù vieni no mamma non andà lì non andà lì madonna ragazzi mamma non andà meglio si appunto e poi perché c'è anche ha fatto molto compagno sul fatto delle lavori per telina ma allora va a destra ho il televisore di seguito beh guarda bene no c'è che eserci in Europa che è stato l'Italia che fa sempre un alleato telina vieni giù vieni giù scendo guarda lo scendo da sé via che è l'Italia che è è l'Italia Grazie a tutti.